Musica Buonasera, bentrovati con l'appuntamento dell'informazione del Tg Max. Elezioni regionali abruzzesi alle urne il 25 maggio. Dunque elezioni regionali accorpate nell'Election Day assieme ad amministrative ed europee. La decisione è stata presa, manca solo l'ufficializzazione. Manca solo l'ufficializzazione ma la decisione è presa. Abruzzesi alle urne il 25 maggio per le elezioni regionali in occasione dell'Election Day con europee e amministrative. La decisione di riallineare le elezioni dopo il voto del 15 dicembre 2008 anticipata a causa degli arresti per l'inchiesta a Sanitopoli che decapitarono l'Aggiunta del Turco è presa. Per l'ufficializzazione manca il varo del decreto di convocazione delle consultazioni che sarà firmato dal Presidente Gianni Chiodi entro la metà di questo mese. Prima di Natale è stato siglato l'atto che ha completato l'iter preparatorio di una questione che ha tenuto banco a lungo provocando tensioni e polemiche per i costi di 15 consiglieri mantenuti in più per sei mesi considerando che il prossimo consiglio sarà di 31 componenti anziché gli attuali 45. Il Governatore uscente e il Presidente del Consiglio regionale Nazario Pagano hanno incontrato il Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila Stefano Schirò così come indica la legge. Per concordare la data delle elezioni è previsto che sia il Presidente della Regione a firmare il decreto sentito il Presidente dell'Assemblea legislativa ed intesa con il Presidente della Corte. La concomitanza delle date e il periodo garantiranno un risparmio di costi e anche una maggiore partecipazione dei cittadini, dice Chiodi annunciando che la firma del decreto ci sarà tra il 10 e il 15 gennaio prossimi. Secondo la norma regionale le elezioni si sarebbero dovute svolgere tra il 15 novembre scorso e il 15 marzo 2014. Sarebbero costate alla Regione non meno di 8 milioni di euro. Restiamo in tema regionale, bilancio trasparente e conti in pareggio così il Presidente Chiodi e l'assessore Masci replicano alle accuse dell'opposizione in Consiglio regionale. Abbiamo chiuso un bilancio con le risorse dei cittadini e non ci siamo indebitati così il Presidente della Regione Gianni Chiodi risponde alle accuse e alle polemiche dell'opposizione scaturite dopo l'approvazione del bilancio regionale nei termini di legge evitando così il ricorso all'esercizio provvisorio. Il Governatore che si appresta a ricandidarsi alle prossime elezioni del 25 maggio non usa mezzi termini accusando di grassa ignoranza il centro-sinistra. Ho sentito accuse becere, volgari, anche gravi da un punto di vista etico ha spiegato al fianco dell'assessore al bilancio Carlo Masci in conferenza stampa le artefici del disastro che accusano chi invece ha pareggiato i conti per la prima volta le entrate annuali della Regione sono equivalenti alle spese obiettivo raggiunto grazie alla riduzione dei costi di struttura in sostanza precisa che oggi si è garantito lo stretto e indispensabile per portare avanti la macchina amministrativa e sono state eliminate le foglie del passato come le sedi in Brasile e Romania o le spese sorbitanti sostenute per lo svolgimento delle sedute del CRAM in giro per il mondo. La Regione Abruzzo è una Regione che ha disavanzi accumulati negli anni pesanti e questi disavanzi non potranno mai essere coperti se non tra 20 anni, tra 10-20 anni se non vogliamo distruggere la Regione della sera mattina però ha un indebitamento che si è fortemente ridotto da 4 miliardi di euro a 3 miliardi di euro. Vedere le critiche, le sorprese, le vocazioni di scoperte di situazioni che accumulano del disavanzo da parte della sinistra dell'opposizione attuale e veramente fa trasecolare perché insomma l'Abruzzo è stato oggetto di saccheggi dal punto di vista delle finanze pubbliche. Per ultimo ci sono state anche le distrazioni del Fondo Sanitario Nazionale cioè di risorse che dovevano andare alla sanità e che invece sono andate a finanziare i bilanci regionali. Con soddisfazione, dichiara l'assessore Masci, per il quinto anno consecutivo siamo riusciti unici in Italia ad approvare il bilancio entro i termini di legge. Per la prima volta approviamo un bilancio senza utilizzare risorse straordinarie e questo vuol dire che il risanamento oramai è diventato strutturale e che quindi questi 5 anni non sono passati in vano. Ricordiamo che 5 anni fa l'Abruzzo era la regione più indebitata d'Italia era l'ultima regione d'Italia. Oggi siamo riusciti, nonostante le difficoltà economiche e finanziarie nonostante le risorse che sono sempre meno, le esiguitate risorse a finanziare dei capitoli sensibili come quello del sociale, come quello della protezione civile, come quello dei parchi, come quello della cultura, come quello dell'agricoltura. Abbiamo fatto sicuramente scelte oculate con le risorse che avevamo a disposizione perché era facile in passato fare mutui debiti che poi avrebbero pagato quelli che venivano dopo. Noi non lo abbiamo fatto, 5 anni non abbiamo fatto un euro di debito e abbiamo pagato soltanto i debiti che c'erano. Resta però da capire perché l'Abruzzo, anche in questo caso unica regione in Italia, non si è ancora sottoposta al giudizio di parificazione come prevede la legge. Chiaro segnale sostiene il consigliere regionale del MOV 139 Carlo Costantini del timore che il governo Chiodi mostra davanti ad un'operazione di trasparenza che si otterrebbe con la certificazione della veridicità e regolarità della gestione finanziaria. La cronaca specializzata in furti con destrezza in casa di anziani sono stati bloccati dagli agenti della squadra mobile della Questura di Pescara. Sono tre persone di etnia Rom, due sono coniugi e sono accusati di furto pluriaggravato. Vari pretesti usati per entrare nelle case. Lo scorso primo ottobre, ad esempio, due uomini si erano finti operai incaricati di verificare un'inesistente fuga di gas, mentre la donna del gruppo si era fatta passare per la nipote di una vicina di casa con lo stesso problema. Il risultato è che un'anziana era stata convinta ad aprire la cassaforte dalla quale il terzetto aveva portato via 80 mila euro di oggetti in oro. Ai tre è stata contestata anche l'aggravante della recidiva specifica infracquinquennale, poiché il 19 marzo 2013 erano stati arrestati nell'operazione Gitano con altre 11 persone. In quell'occasione erano state sequestrate anche due gioiellerie dove veniva reciclata la refurtiva. A Lanciano, Palazzo 900, non sarà abbattuto, ospiterà invece diversi uffici e assessorati comunali. Lo ha deciso a maggioranza l'ultimo consiglio comunale. È abusivo ma non sarà abbattuto. Il consiglio comunale di Lanciano ha votato a maggioranza per i prevalenti interessi pubblici di Palazzo 900. È un pasticcio tutto lancianese, quello che coinvolge l'edificio realizzato in via Cesare de Titta a fine anni 90 e che si è trascinato nelle aule giudiziarie fino ad oggi attraversando tre diverse giunte comunali, Fosco, Paolini e Pupillo. I permessi per costruire c'erano, ma secondo i giudici è stato realizzato contravvenendo alle prescrizioni del PRG dell'epoca. Così le sentenze del Tare del Consiglio di Stato ne hanno ordinato la demolizione, ma l'attuale amministrazione comunale ha scelto per l'acquisizione dell'immobile al patrimonio pubblico, divenendone proprietario già dal 2011. Sarà sede di uffici di vari settori dell'amministrazione, dichiarano da Palazzo di Città, per 45 addetti alle politiche sociali e ambientali del commercio, dello sport, di mobilità e traffico e relativi assessorati. In pratica saranno svuotati i locali di Palazzo Vergili e Palazzo De Giorgio. In questi giorni sono in partenza le disdette dei contratti in essere con i rispettivi titolari privati. Il tutto per un risparmio calcolato per l'ente comunale di circa 85 mila euro di affitti l'anno. Voto contrario in aula dai banchi dell'opposizione, che sostiene ancora la demolizione perché Palazzo 900 è legittimo, come dicono i giudici nelle sentenze, e lei del diritto del confinante è autore dei numerosi ricorsi e che potrebbe impugnare anche questa delibera. Mentre il mantenimento dell'immobile farà risparmiare sulle spese di affitto per vari uffici pubblici, la demolizione sarebbe costata 350 mila euro alle casse comunali, rispondono dall'Aggiunta, spesa inserita precedentemente nel piano triennale delle opere pubbliche e che sarebbe stata poi richiesta come rimborso agli inquilini. Nel frattempo il Comune ha sfrattato le 10 famiglie che risiedevano a Palazzo 900. A breve andrà via anche l'ultimo inquilino, mentre il confinante, in attesa di decidere per un nuovo eventuale ricorso, continuerà a ricevere circa 5 mila euro l'anno a titolo di ristoro. Dovrebbero cominciare entro gennaio con un primo lotto di 150 mila euro i lavori di adeguamento dell'edificio dell'ex Intendenza di Finanza di Chieti destinati ad ospitare alcuni uffici della Prefettura. Quest'ultima a sua volta lascerà gli uffici liberi alla Questura di Chieti che si trovano nello stesso edificio della Prefettura e che da anni reclama spazi idonei. E quanto emerso dalla riunione tenuta oggi a Chieti in Prefettura è convocata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giovanni Legnini. Viti, vinicoltura, 8 milioni di euro a sostegno delle imprese del settore da parte della Giunta regionale. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Mauro Febbo, ha approvato due provvedimenti per la valorizzazione della vitivinicoltura abruzzese. Il primo si prefigge lo scopo di elevare la qualità controllando le quantità per poter incrementare la competitività sui mercati. Il bando è finanziato con fondi della OCM, Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo, e mette a disposizione degli imprenditori agricoli 5 milioni 728 mila euro che potranno essere utilizzati per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Gli interventi dovranno tener conto dell'esigenza di far scendere sensibilmente la produzione di vini di minor qualità e senza indicazione geografica, compresi i vini da tavola, per incrementare invece DOC e IGT. Un intervento che prevede anche un sostegno per chi ha subito danni a causa delle nevicate dello scorso mese di novembre. Pertanto, tra i criteri generali, in sede di formulazione della graduatoria, sono previsti dei punti aggiuntivi proprio per le aziende che provvederanno a ripristinare i vigneti abbattuti. L'altro provvedimento è stato varato nell'ambito del programma operativo della misura investimenti per il settore vitivinicolo della Regione. Saranno messi a disposizione 2 milioni di euro per migliorare il rendimento economico e gestionale dell'impresa, ma anche in termini di competitività, miglioramento questo che dovrà essere spiegato in una breve relazione del piano di investimenti che si intende realizzare. Potranno essere realizzati punti vendita aziendali ed extraaziendali purché in ambito regionale, le attività di e-commerce, realizzazione di showroom, negozi esperienziali, laboratori di analisi e strumentazione per il controllo di qualità dei prodotti, i sistemi di gestione integrata della qualità e tracciabilità. Le domande potranno essere presentate entro il 18 febbraio, salvo eventuali proroghe di Agea. Una manifestazione pubblica a sostegno della discussione dinanzi alla Corte Costituzionale sulla salvaguardia dei tribunali minori e quanto ha deciso ieri a Sulmona per il prossimo 11 gennaio il direttivo del Comitato per la salvaguardia del Tribunale. La riunione è tenuta presso il Comune di Sulmona, è stata anche l'occasione per rifare il punto delle iniziative portate avanti per tutelare il Tribunale, come la riunione dei sindaci presso la sede della Regione Marche a Roma, l'iniziativa presso la sede del Consiglio regionale all'Aquila per la costituzione di un nucleo istituzionale di respiro regionale a sostegno delle iniziative referendarie e infine la costituzione di un coordinamento nazionale delle regioni proponenti il referendum. Inoltre sono state concordate iniziative parlamentari unitarie della presentazione di un emendamento da inserire nel mille proroghe. La pagina del calcio, Serie B, campionato fermo fino al 25 gennaio, impazzano i gossip di calcio mercato, Pescara e Lanciano sono a caccia di attaccanti, è quasi fatta per Sansovini in rosso-nero. Il campionato di Serie B riprenderà il prossimo 25 gennaio, ma la pausa invernale sarà dedicata al calcio mercato appena iniziato. Fuoco alle polveri dunque, che però sono ancora bagnate. Il Pescara in realtà avrebbe bisogno di almeno un centrocampista, vista la perdurante carenza numerica del reparto, anche a causa degli infortuni, prima di Nielsen, poi di Rizzo e Viviani. Il solo Brugman canta e porta la croce, come si dice in gergo, mentre Zuparic, seppur in buona forma, è comunque adattato al ruolo. Ma ancora di centrocampisti in arrivo non si parla, bensì di attaccanti. I fari sono puntati su Verona, Sponda-Chievo per Matteo Ardemagni, 27 anni da compiere, quasi mai impiegato dai Clivensi, ma inseguito da mezza Serie B. Nelle ultime ore il pressing del Latina. Su Sponda-Ellas, invece, rispunta, come ogni anno, il nome di Daniele Cacia, ha 30 anni e 24 gol segnati nell'ultima stagione di Serie B. Ma il giocatore preferisce non giocare in Serie A piuttosto che scendere tra i cadetti. Per il centrocampo, il Latina in realtà ha deciso di cedere l'argentino Maximiliano Secas, 34enne, ex Ternana. Potrebbe essere il mediano di esperienza utile in mezzo al campo. A proposito, invece, di attaccanti, è l'unico obiettivo delineato dal lanciano, che per il resto ha l'organico al completo. L'uomo gol dei Frentani potrebbe essere addirittura Marco Sansovini, 33enne, indimenticato capitano del Pescara, e attualmente in rotta con lo Spezia. Sul bomber romano, 20 gol la scorsa stagione, ci sono però anche Avellino e Cesena. Resta in piedi l'ipotesi Claudio De Sosa, 28enne italo-brasiliano in forza all'Aquila, con 5 gol in prima divisione, e 18 lo scorso anno in seconda a Chieti. Dovrebbero invece lasciare il lanciano, sia Fofana che il promettente Verna. Per loro poco spazio e tante richieste dalla Lega Pro. Sono solo i primi giorni di trattative, e ancora un mercato gossip, aspettando che alle parole seguano i fatti. In studio per le ultime novità, accanto a me c'è Sergio Mancini. Buonasera Sergio e grazie per essere intervenuto. Allora, quali sono le ultime novità in questo calciomercato? Siamo abituati nel corso degli anni a dare notizie piuttosto di gossip alle prime ore appunto del calciomercato. Sì, infatti queste sono le prime ore di questo 2014 per quanto riguarda il calciomercato per la Serie B in modo particolare. Quello che abbiamo messo insieme nel servizio che avete appena terminato di vedere. Poi ci sono cose ovviamente suscettibili di variazione di ora in ora, anche se, come al solito, nella seconda metà di gennaio poi si tireranno le somme e saranno lì le cose scritte su carta. Insomma, le firme arriveranno lì. Però insomma, sembra veramente che ci sia questa possibilità. Più di una possibilità che Marco Sansovini, giocatore da tanti anni celebrato di Serie B a son di gol a doppia cifra in tutte le stagioni, possa arrivare addirittura a Lanciano se riusciranno i frentani a vincere la concorrenza di Avellino e Cesena. Comunque anche di calciomercato parleremo stasera nel corso di Amuso Duro perché stasera ci sarà la prima puntata del 2014. Tra l'altro, visto che non si gioca, la Serie B è ferma, ci rivolgeremo ancora di più a voi che vedete la trasmissione, a tutti gli spettatori di Telemax con un sondaggio in particolare che riguarda il Pescara sulla lieta sorpresa di questo girone di andata. Dovrete scegliere, insomma, tra alcuni giocatori del Pescara quale, secondo voi, è il migliore come si dice in questi casi e quale magari anche la delusione. Quindi poi parleremo di tutto questo stasera. In studio, come sempre, accanto a te Gianfranco Semproni e poi? E poi ci saranno degli ospiti, ovviamente, dei tecnici e anche tifosi che insieme a noi parleranno di questo calciomercato e di quello che potrà essere il girone di ritorno in Serie B che sarà come un campionato diverso quando ricomincerà. Un pronostico, Sergio? Un pronostico, speriamo ovviamente che non è solo la speranza ma forse sono cose che potrà dire anche il campo che il Pescara e il Lanciano possano mantenere fino al termine del campionato le posizioni con le quali hanno chiuso il 2013. Grazie, allora, Sergio Mancini, per queste ultime novità. Grazie a voi, telespettatori. Vi ricordo che notizie, servizi e TG sono sul nostro sito internet tgmax.it. Arrivederci. Grazie a tutti.